Siamo sulla scalinata del teatro Signorelli a Cortona. Nel video, diventato virale sulle chat del paese, una persona sembra un turista di lingua tedesca che sniffa cocaina. La scena è stata ripresa con lo smartphone di un passante, la persona si prepara una striscia e poi la consuma davanti a tutti. L'episodio risalirebbe a ieri sera di oggi l'intervento del sindaco di Cortona, Luciano Meoni. In queste ore sta girando in rete ed è stato inviato anche al sottoscritto un video a dir poco scandaloso che riguarda un personaggio che evidentemente dovrà essere identificato che nelle scale del teatro Signorelli, quindi in piena piazza Signorelli, sniffa davanti a tutti senza nessun problema. Credo che sia giunta l'ora di buonificare la città di Cortona perché Cortona è una città di arte, cultura, storia, del buon vivere, è una città dove si vive veramente bene e alcuni personaggi non possono infangare il nome della nostra cittadina. Ledendo l'onore anche delle istituzioni perché evidentemente questi atteggiamenti ledono anche il nostro onore. Quindi chiedo pubblicamente, visto che in giro tutti parlano di sostanze, di giri e di raggiri, io chiedo pubblicamente alle istituzioni un massiccio intervento perché non possiamo più tollerare né lo spaccio né il consumo pubblico come viene fatto senza nessun problema e alla faccia di tutti. Quindi scusate lo sfogo ma Cortona non è questo. Cortona è bellezza, è arte e cultura e noi la difenderemo a tutti qui bosti.